A Milano si vendono due laboratori in via Teocrito, nei pressi di Viale Monza, poco lontano dalla fermata della metropolitana. Gli immobili si trovano al piano terreno e hanno accesso dal cortile di un edificio residenziale. Il primo dei due laboratori è una superficie commerciale di 250 metri quadri ed è costituito da due grandi locali, i servizi, un ripostiglio. Il prezzo base d'asta è di euro 200.000. Il secondo ha una superficie commerciale di 118 metri quadri ed è composto da un unico grande locale più i servizi. Il prezzo base è di euro 94.000. L'asta si terrà il giorno 5 giugno. L'acquirente avrà la possibilità di dilazionare il pagamento fino al mese di dicembre. Per maggiori informazioni chiamare il dottore Insoli al numero 02 9358 6358. Grazie a tutti. Grazie a tutti.